Grazie a tutti Tutte persone che non pensavo mai che in massa venisse tanta bella gente Vi ringrazio tutti Questo è un locale che abbiamo sofferto un po' Abbiamo avuto un po' di sofferenza Tutto tutto perché le cose belle fanno soffrire Oggi siamo persone felici di aver innamorato questo locale Questo è un locale che ha 170 posti a sedere Occupa 35 dipendenti, tutti giovani, belli attivi Formati dalla nostra squadra Posso dire che andremo nel sicuro perché sono bravi Io ho un'esperienza che è eterna Allora la carne la conosco Però quando uno ha identificato la miglior carne Ci sono tanti elementi che contribuiscono a selezionare la buona carne Ma su 100 animali, lo stesso sesso alimentato, lo stesso modo Ce n'è sempre uno che tradisce, che ha il muscolo più duro Lì non garantisco, ma 99 vi garantisco che sono delle qualità che voi aspettate Il successo di questo, la ventesima, che è la ventesima aperta Funzionano tutte bene, la carne penso che sia buona Il prezzo, ci pensa lui, mi dice così che lui deve fare i numeri Il prezzo va tenuto sempre più contenuto Grazie che siete tutti qua Sono anche un po' comorso E questa è una cosa che ci tengo perché La Stikaus a 3 km, a 5, a 4 km da casa mia Da Linalca A 8 km da casa mia Io credo che qua Alla faccia dei vegetariani Credo che sarà per me Sarà la mia tavola Quasi tutti i giorni Grazie della vostra presenza Siete speciali Vi ringrazio Grazie 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 Bello